I prodotti naturali, cioè quelli che troviamo in natura, sono sia di origine biologica che totalmente biodegradabili. Le due caratteristiche sono sempre congiunte. Per i prodotti fatti dall'uomo però questa equivalenza può anche non esserci. Noi sappiamo, tutti sanno che le plastiche tradizionali di uso comune derivano dal petrolio e non sono biodegradabili. Però non è vero che tutto quello che deriva dal petrolio non è biodegradabile. Dipende dalla struttura chimica delle molecole che vengono prodotte. Quindi è possibile, usando le sostanze derivate dal petrolio, fare molecole che sono totalmente biodegradabili. Quindi esistono plastiche ottenute mediante processi petrochimici che sono totalmente e velocemente biodegradabili. Può sembrare un controsenso ma è così. D'altra parte è possibile prendere lo zucchero, che ovviamente è totalmente biodegradabile, e tramite fermentazione e processi chimici trasformarlo in polimeri non biodegradabili. Quindi esistono tutte le possibilità, tutte le combinazioni ed è importante quindi non confondere i piani. Se dico ad esempio che un prodotto Mater B ha un contenuto di sostanze a base biologica del 40%, non vuol dire che è biodegradabile soltanto per il 40% e il 60% non lo è. Il numero si riferisce all'origine, cioè alla quantità di sostanze vegetali presenti in quel prodotto specifico. Quindi le informazioni importanti per poter capire le caratteristiche di una bioplastica sono qual è la percentuale di sostanze a base biologica e se è biodegradabile oppure no.